Se affrontato da poco il trattamento denti fissi in 24 ore, può capitare di sentire delle zone più spesse e ruvide vicino alle gengive. Infatti potresti sentire come un'incrostazione ruvida sul bordo della protesi. Si tratta di tartaro. Questo capita perché nei primi giorni non hai potuto spazzolare bene per evitare di sanguinare. Tranquillo però, durante gli appuntamenti a una settimana e sei mesi toglieremo noi il tartaro che si è depositato. Non sentirai alcun dolore e il tuo sorriso sarà sempre sano e splendente. Mi raccomando però non scordarti di effettuare una corretta igiene orale anche a casa. È davvero molto importante per non far correre alcun rischio ai tuoi denti. Vedrai, andrà tutto bene. Noi siamo qui a disposizione per qualsiasi informazione. Se hai qualche domanda scrivicela nei commenti. A presto!